Presentati in conferenza stampa al Comune di Trani, i due nuovi assessori Capone ed Agostino. Io intendo lavorare, in coerenza con quanto Bottaro ha elaborato nel suo progetto politico per questa città, lavorare su due ambiti. Un ambito primo, concreto e immediato che riguarda le manutenzioni. Le manutenzioni degli spazi pubblici aperti e chiusi di questa città, questo rappresenta la qualità della vita per i cittadini. Su questo ci sarà il mio massimo impegno e sin da subito perché abbiamo accumulato ritardi, ci sono economie ridotte, è veramente una grande impresa. Ma questo è il primo. Il secondo ambito è l'ambito che vuole tradurre una visione della città, una visione politica, il sogno della politica che si traduce in progetti. Un parco progetti capace da una parte di attirare risorse economiche che ci mancano, acquisirle attraverso i canali europei, della regione o statali. E' un parco progetti che è in grado di trasformare questa città in una città migliore. Sicuramente faremo un incontro con le associazioni di categoria, così da creare una rete con le associazioni e di conseguenza con le attività. C'è tanto da lavorare, c'è tanto entusiasmo e ci sono tante idee. Dobbiamo fare dei progetti e li dobbiamo portare avanti. Sicuramente ci sarà la mia massima disponibilità con tutti, assolutamente, senza alcun problema. Io dico esperienza e gioventù. Novità e invece, diciamo così, una grossa esperienza del passato. Chiaro che con l'assessore Capone c'è una vecchia condivisione. Io ero un giovane assessore quando eravamo giunti insieme tantissimi anni fa. Peraltro, essendo lui un professionista, oltre che professore, ci siamo spesso incrociati anche dal punto di vista professionale, quindi per me è assolutamente una certezza e una garanzia. L'assessore D'Agostino è un po' quella freschezza che dicevo io quando 15 anni fa ho fatto anche io l'assessore a 29 anni, quindi sicuramente cercheremo di farci aiutare anche dal suo entusiasmo e dalla sua gran voglia di fare. Da Trani, per news24.city, Rossella De Palma.